Quattro, due, due, RACE! Non male per la gara sprint siamo ottavi, mentre per la gara feature purtroppo ho fatto un errore, ho commesso un errore in frenata, che ho compromesso un po' la situazione, eravamo comunque decimi, quindi dopo il primo tempo di questa mattina passo indietro, però comunque nelle posizioni di vertice. È una pista molto difficile, è una pista molto sporca, piena di bump, quindi è molto facile fare errori. Abbiamo visto errori dal primo turno fino alle qualifiche, compresi i miei, quindi domani penso in gara ne vedremo delle belle. Che puoi fare dal gruppo che hai? La gara sprint, ottavo, penso possiamo puntare bene, possiamo puntare in alto, sicuramente bisogna fare un bel pit stop, qua i sorpassi sono difficili, quindi cerchiamo di fare un bel pit stop, di avere un po' di fortuna, mentre la gara lunga partiamo un po' più indietro, però essendo un 50 giri posso cercare di tutto. Quattro, due, raise!